Ancora un weekend di sangue e violenze tra giovani e giovanissimi si è consumato nel napoletano. Sabato, in via Merleani, al Vomero, un ragazzo al colmene di una lite che ha coinvolto diversi adolescenti in strada a godersi la serata, sarebbe stato colpito al capo dal calcio di una pistola con il tappo rosso. A ferirlo, secondo il racconto dei presenti, alcuni coitanei che poi si sono allontanati dal luogo della rissa di corsa. Dei ragazzi si sono presi a schiaffi a calci, poi qualcuno ha estratto una pistola e il ragazzo è stato colpito, ora ha un buco in testa, poi gli autori si sono allontanati subito. È stata questa la testimonianza fornita da alcuni degli adolescenti in via Merleani. Sul posto, una volante della polizia di stato per approfondire l'accaduto e i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzino ferito all'interno di un'ambulanza. Per fortuna, il trauma non ha impensierito i sanitari e il giovane è stato subito rilasciato. Ancora a Portici, un 17enne incensurato è stato colpito con una mazza di ferro alla nuca ieri sera. Subito sul posto, volanti delle forze dell'ordine e con loro i sanitari del 118 che hanno prontamente trasportato l'adolescente all'ospedale del mare, dove è ancora attualmente ricoverato. Sul posto i militari hanno effettuato tutti i rilevamenti scientifici del caso e ora sono alla ricerca dei responsabili dell'aggressione.